Seconda dose di quale vaccino? Pfizer. Come si affronta questo momento? Allora, stamattina mi sono levata con una fifa bestiale. Ora sono un po' più tranquilla. Mi hanno tranquillizzato anche dentro. La prima volta è andata benissimo. Speriamo che sia meglio. Senta, la paura? Per quale motivo? Perché escono anche queste notizie, come quella di oggi di Montevarchi? Proprio così, sì. Però, insomma, ora mi hanno tranquillizzato lì dentro e niente. Non vedevo l'ora di farlo comunque. Nonostante qualche paura, qualche incertezza, è la notizia anche questa volta che ha toccato il territorio aretino di una morte una donna di 49 anni che è deceduta dopo aver ricevuto la prima dose di vaccino moderna. Gli aretini e in questo caso invece i valdarnesi continuano a vaccinarsi. La donna Valentina Bencini, 49 anni, originaria di Montevarchi, ma residente in provincia di Siena, è stata trovata senza vita ieri pomeriggio nella sua abitazione a San Gusme, comune di Castelnuovo Berardenga. Sarà l'autopsia disposta dalla Procura di Siena in calendario per lunedì 19 luglio a stabilire le cause della morte e se il decesso possa essere in qualche modo correlato al vaccino anticovid, in questo caso moderna, che giovedì scorso le era stato somministrato. Non si sa se si fa bene o se si fa male, questo siamo un po' incerti, però visto la maggioranza insomma si segue un po' la maggioranza di popolo, insomma un po' di consigli, secondo me va fatto tutto. Posso chiederle con che, diciamo, stato d'animo ci si vaccina, con serenità? Non troppo, ma comunque bisogna farlo, insomma è necessario fare il vaccino. La prima o la seconda dose? La seconda dose. Pfizer? Sì, non ho avuto problemi, insomma, nel senso ho escluso un po' di dolore al braccio. Lei si è vaccinato? Sì, si è già fatto la seconda dose 15 giorni fa. Ecco, quindi ha affrontato, diciamo, il vaccino senza grandi pensieri? Senza problemi. Bisogna farlo, il vaccino va fatto, quindi purtroppo i rischi sono come tutti i vaccini, sicuramente qualcosa di rischio c'è, però il vaccino va fatto, per il bene di tutti.